Amici di Football News My Life, ciao a tutti, ciao a tutti dal Parco dello Stelvio, come potete vedere, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con un video nel quale andrò a fare, finalmente, finalmente, dopo tanto tempo, i pronostici della Serie A. Pronostici della nona giornata di campionato, pronostici delle dieci partite più cinque miei marcatori. Iniziamo subito, iniziamo da una partita che si giocherà tra poche ore, Torino-Genua. Torino-Genua, io vi dico 1, vittoria del Toro. Vado con la vittoria dei Granata, perché in questo inizio di stagione mi sono sembrati più squadra, una squadra rognosa, spigolosa, difficile da affrontare. Non sempre hanno fatto punti, però sulla carta sono superiori rispetto al Grifone, ed hanno anche dalla loro il fattore campo. Proseguiamo poi con il derby Ligure Sampdoria-Spezia. Sampdoria-Spezia, vedo favorita la Samp. Non do per certa la vittoria dei blucerchiati, perché? È vero, giocano in casa, la partita è alla loro portata, però stanno attraversando un periodo non proprio brillantissimo. Mi aspetto comunque una gara dove ci saranno delle reti, ed il mio pronostico qua è un 1x più over 1,5. Possibile marcatore di questa partita? Io vi dico il sempreverde, l'Evergreen Fabio Quagliarella. Salernitana-Empoli. Sfida tra due neopromosse. La Salernitana, ultima in classifica, ha cambiato allenatore. Via Castori dentro con l'Antuono. Un cambio che può dare magari una scossa in un primo momento ai campani, anche se il problema della Salernitana, insomma, non era l'allenatore. Qua non so dirvi 1x2, nel senso la vedo una partita da tripla aperta a qualsiasi risultato. Vi dico, gol, entrambe le squadre segnano. Secondo me, almeno una rete, entrambe riusciranno a realizzarla. E come possibile marcatore di questo match, vi dico, quanko simi della Salernitana. Chissà, magari adesso con il nuovo allenatore, io mi aspetto una Salernitana che riuscirà a segnare qualche gol in più rispetto a prima. Sassuolo-Venezia. I miei nero-verdi. Un Sassuolo che ha iniziato la stagione un po' così e così, tra alti e bassi. Il gioco, tutto sommato, mi sembra che ci sia, però non vedo una squadra sempre sul pezzo dal punto di vista mentale. Non ne riusciamo a concretizzare al punto giusto. Il Venezia, tecnicamente non eccelso, comunque una squadra che gioca a calcio. sta anche facendo discretamente bene, per non dire bene. Qua mi aspetto una partita vivace, una partita aperta con diverse, con un po' di gol. Quindi non vado su un 1x2, ma vi dico semplicemente Sassuolo-Venezia-Gol. Entrambe le squadre segnano. Poi Bologna-Milan. Milan, che è reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Porto. Milan quasi fuori dalla massima competizione europea. Si presenta questa partita decimato, con diversi giocatori fuori per infortunio. penso che riuscirà a riscattarsi dopo la sconfitta di Oporto in Coppa. Mi aspetto una partita non semplicissima per i rossoneri, però comunque in un qualche modo alla fine riusciranno a sfangarla. Quindi per Bologna-Milan vi dico due vittorie del Milan. Atalanta-Udinese, il lunch match di questa giornata. Qua vi dico 1, vittoria dell'Atalanta. Atalanta che ha perso in Champions contro il Manchester United in rimonta. L'Udinese dopo un buon inizio ha un po' rallentato. Penso che la Dea in questa partita riuscirà a portare a casa i tre punti in una gara che secondo me riserverà anche un po' di gol. Anzi, anziché 1 vi dico 1 più gol, perché secondo me l'Udinese un golletto lo può fare. Il marcatore di questa partita vi dico Luis Muriel, che tra l'altro è un ex. Proseguiamo poi con Verona-Lazio. Una partita incerta. Incerta che secondo me può riservare anche delle sorprese. Non mi meraviglierei qualora il Verona portasse a casa i tre punti anche. Verona che con Tudor sta andando bene. 8 punti in 5 partite. Una squadra che incassa gol, ma ne segna anche. Che è anche quello che fa la Lazio. Una squadra che segna e che subisce. Motivo per cui in Verona-Lazio vi dico gol, entrambe le squadre segnano. Un possibile marcatore? Secondo me Antonin Barak per la squadra di casa. Fiorentina-Cagliari invece vado sull'uno, sulla vittoria della Viola. Vittoria della Viola perché non vince da qualche partita. Due sconfitte consecutive. Giochi in casa contro il Cagliari. Partita sicuramente alla portata. Può essere una partita spigolosa, almeno per una parte di gara, però comunque ripeto che secondo me alla fine la Viola riuscirà a vincere. Andiamo avanti poi con uno dei due big match di questa giornata. Roma-Napoli. Roma che ha iniziato la stagione tra alti e bassi. In campionato è quarta con 15 punti. In Europa League due vittorie ed una sconfitta. E che sconfitta? 6-1 in casa del Bodo Glimt, squadra norvegese. Un risultato che non si sarebbe aspettato nessuno, nemmeno il più pessimista dei tifosi giallorossi. Una sconfitta che può pesare sulla testa dei giocatori. Murigno poi se n'è uscito con delle dichiarazioni. Ci serve qualità e insomma quando a Roma fai queste dichiarazioni succede il finimondo, scoppia la terza guerra mondiale e bisogna un attimo stare attenti. La Roma è all'inizio di un nuovo percorso. Non mi dà tantissima fiducia. La vedo sempre un po' altalenante dal punto di vista del gioco. Lo sapete. Finora non è che mi abbia propriamente convinto. Il Napoli, primo in classifica, 24 punti su 24. 8 vittorie in 8 partite. Sapete anche voi che qua vado coi piedi di piombo su questa squadra. Però in questa partita lo vedo favorito. Lo vedo favorito perché la Roma secondo me può aver accusato il contraccolpo psicologico dopo la batosta, dopo la sconfitta fragorosa in Conference League. Non do per certa una vittoria del Napoli perché magari prenderanno un po' la partita sotto gambe. La Roma stringendo i denti può anche strappare un mezzo risultato positivo. Comunque qua vi dico Roma-Napoli x2 a favore dei partenopei. Marcatore di questa partita il solito Victor Ozymane del Napoli. Concludiamo poi il tutto con il derby d'Italia. Inter-Juventus. Due squadre reduci dalle partite in Champions League. L'Inter sta andando abbastanza bene in campionato. Champions un po' meno. La Juve in campionato dopo un inizio un po' negativo si è ripresa. In Champions dal punto di vista dei risultati finora niente da dire. Qua secondo me sarà una partita combattuta. Una partita che non ci riserverà tantissimo spettacolo. Secondo me ci saranno anche pochi gol. Non tantissimi. L'Inter è più forte. Ha più alternative rispetto alla Juventus. Però la Juve è una squadra che è esperta di questo tipo di gare. È una squadra che quando si deve arrivare al nocciolo della questione almeno 7-8 volte su 10 non sbaglia. Come pronostico io quindi qua andrei su un under 3,5. Mi aspetto una partita, ripeto, tirata dal punteggio abbastanza basso. Un 1-1, 1-0. No, 1-0 magari no. Un 2-1 per una delle due squadre. Ecco. Va bene ragazzi. Questi erano i pronostici della decima giornata di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciarmi un commento, a lasciarmi un piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.